Io ho fatto bere qualcosa di terra, adesso sono già andati. Sì, sì. Carola, come oggi? Sì, adesso, come oggi, sono pronti a fare il regalo di salutare ai clienti. Adesso, con Tavia torna qua, perché io l'ho già detto a loro che gliel'avrei rientrato questo regalo. Mi sono chiamato Tavia, mi disse, torna qua, lei si parli accompagnare da quello che mi ha detto. Marré rientzo i fri. Sei... E ah... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info